Sono stati sorpresi dal proprietario di un'abitazione con parte della refurtiva rubata poco prima dal suo appartamento e lo hanno minacciato intimandogli di non presentare denuncia. In manette tre giovani nissegni, il 25enne Davide Isola, il 24enne Vincenzo Giglio e il 18enne Samuel Geraci, resisi responsabili dei reati di rapina in concorso e distorsione. I tre giovani sono stati tratti in arresto dei carabinieri del nucleo operativo di Caltanissetta dopo le indagini portate avanti dai militari a seguito della denuncia presentata dalla vittima lo scorso 21 agosto. Un'attività investigativa grazie alla quale i militari hanno appurato il tentativo di estorsione da parte del solo Davide Isola, il quale si era offerto di fargli ritrovare l'area furtiva, ossia una playstation e un televisore di 55 pollici in cambio di 500 euro. Una proposta accettata dalla vittima, solo che al momento dello scambio avvenuto lo scorso 9 settembre in Piazza Marconi sono intervenuti i carabinieri che hanno così arrestato in flagranza di reato Davide Isola mentre i soldi dell'estorsione sono stati recuperati e restituiti alla vittima. Individuati gli altri due autori della rapina sono stati tratti in arresto su ordinanza della procura della Repubblica di Caltanissetta. Davide Giglio si trova ora al carcere Malaspina mentre Samuel Geraci ha gli arresti domiciliari nella sua abitazione.